si parte giro dall'isola una bella giornata di mare oggi però non c'è più vento guarda che spettacolo oggi guarda che roba da fare l'inversione oggi andiamo a cercare le mante se non troviamo le mante facciamo una bella impressione a miaro quando è l'unico passo più famoso se troviamo le mante ovviamente divertiamo con le mante tanto mai non 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 non